salve a tutti bella gente benvenuti in questo nuovo video come avete potuto vedere dal video questo sarà un video aggiornamento periodico per quanto riguarda la formentor come la maggior parte di voi sanno per quelli che non lo sanno possiedo questa vettura da un anno e un po di mesi ormai ci sono tutti dei video aggiornamenti sulla vettura tagliandi come si comporta problematiche come risolvere alcune problematiche tutto quanto trovate tutto nel canale se non vi siete iscritti al canale iscrivetevi perché ci saranno tanti ma tanti ma tanti aggiornamenti detto ciò cominciamo come avete potuto vedere c'è un video sul canale dove faccio il rabocco della di blu perché la macchina me lo richiedeva avevo all'incirca 13 mila chilometri quella volta quando l'avevo fatto e adesso mi ha apparsa di nuovo la spia come potete vedere mi segna che mancano 1500 chilometri che finisca la di blu e adesso la vettura a 27.291 chilometri adesso procederemo col fare il rabocco di adiblu ho comprato il classico adiblu quello che richiede la vettura con la norma iso adesso non me la ricordo ma l'andiamo a vedere che c'è scritta sul tappo la la norma iso 22 24 1 trattino 1 quindi basta che la di blu che comprate segue con la normativa lì e per il resto siete a posto detto ciò direi di fare il rabocco la macchina fatto il rabocco di adiblu sono entrati tutti i 10 litri e secondo me ci entrava ancora sinceramente adesso veramente veramente sono curioso di ricomprarne una tannica da 10 litri fare il rabocco vedere quanti effettivamente di litri ce ne entrano ancora anche perché sembra infinito sto serbatoio non so quanti litri abbia adesso siamo in macchina e vediamo un attimo cosa succede quando riaccendiamo la macchina e vediamo di vedere cosa segna e se segna che è pieno non è pieno il serbatoio di adiblu ecco qui partimo rabocco adiblu def autonomia e niente segna la stessa cosa che segnava prima sparita come è sparita prima e però è sparito il messaggio come potete vedere non c'è più il messaggio quindi la macchina ha fatto il check ea quanto pare è sparito il messaggio come potete vedere stato veicolo non ci sono errori e tutto quanto e niente adesso spegniamo rifacciamo partire per vedere come se riappare qualcos'altro e come potete vedere non riappare più niente da quello che ho capito tocca fare il pieno ogni 13.000 13.500 chilometri a seconda dell'utilizzo che fate dalla vettura quindi un pieno di adiblu basta per questo questo chilometraggio qui perlomeno io riesco a fare questo chilometraggio qui poi effettivamente sinceramente non so se è pieno il serbatoio detto ciò continuiamo con il video rieccoci qui adiblu fatto tutti gli aggiornamenti fatti visti e vedremo successivamente quanti effettivamente li trientrano nel nel serbatoio di adiblu proprio rabboccandole noi senza il computer di bordo detto ciò niente partiamo con gli altri aggiornamenti quotidiani per quanto riguarda la formentor due video fa ho fatto il video su come sistemava una vibrazione che c'era qui per quanto riguarda il cofano della vettura detto ciò adesso sono passate due settimane all'incirca vediamo come si sta comportando la specie di guarnizioni di spugnetta che ho messo lì vi dico che la vibrazione non si è più sentita una volta messa con la guarnizione lì adesso vi faccio anche effettivamente vedere dove tocca il cofano e come si sta comportando la guarnizione ripeto per l'ennesima volta cupra metteteli dei cazzo di pistoncini perché pesa l'ira di dio sto coso eccoci qua allora come potete vedere questa è la guarnizione messa e come potete vedere qui si è un po scollata si è un po scollata uno per il calore perché ultimamente questi giorni fa veramente caldo in ancona sono più di 20 gradi durante la giornata e poi oltre a questo il calore il motore scotta veramente tanto e di strada io non ho fatta chissà quanta per venire qui come potete vedere qui il cofano tocca precisamente in questo punto qui ed è qui che la guarnizione è schiacciata proprio tanto schiacciata perché il cofano toccava proprio che poi come potete vedere ci sono anche degli sfriggi dove toccava effettivamente il cofano poi un altro punto dove toccava il cofano è proprio questo qui non so se lo riuscite a vedere bene che è proprio questa parte qui in particolare questa qui e poi altre parti a quanto pare non ci sono perché qui non tocca minimamente anche se pensavo che toccasse non tocca minimamente infatti vi ho detto si è scollata si è scollata anche perché oltre al calore ci ho fatto caso che dopo che l'ho messo ha piovuto per parecchio tempo mi è capitato di alzare il cofano e di vedere che lì c'era l'acqua cioè goccioline di acqua stiamo parlando comunque nell'utilizzo della macchina quotidiano quindi anche sotto il diluvio quando sei in giro un pochino di acqua lì goccioline stiamo parlando ci finisce il problema principale è il calore perché proprio la colla è rimasta attaccata alla plastica in basso la spugnetta si è scollata si è levata completamente dalla colla detto ciò chiudiamo il cofano e passiamo al successivo aggiornamento successivo aggiornamento che riguarda i consumi aggiornamento sul quale sono rimasto molto molto sorpreso riguardo ai consumi perché perché ho notato che dopo i 25 mila chilometri l'auto ha cominciato a consumare di meno c'è da dire che nell'ultimo periodo il mio utilizzo della vettura è stato un 40 45 per cento cittadino e l'altro santa 55 per cento extraurbano autostrada ho notato che nell'utilizzo normale della vettura quotidiano a 360 gradi che sia città che sia extraurbano che sia autostradale stando nei limiti i consumi si sono abbassati cosa vuol dire ciò che riesco a fare più di 14 14,5 chilometri al litro adesso riesco a stare tranquillamente sui 15,5 16 chilometri per litro di gasolio che sinceramente per una macchina del genere essendo a trazione integrale essendo un 2000 cambio automatico a me risulta essere un buon consumo perlomeno per l'utilizzo che ne faccio io e per come la guido io la vettura perché molti di voi mi avete detto tutti che ho il piede un po' pesantino effettivamente sì non vado tanto ai consumi però quando vado tranquillo effettivamente ho visto che i consumi della vettura sono migliorati e di tanto anche sono rimasto molto sorpreso un'altra cosa che ho notato che la trazione integrale non entra più come prima ovvero appena davi una piccola accelerata entrava sempre la trazione integrale adesso entra proprio quando c'è bisogno della trazione integrale altrimenti non entra successivo aggiornamento riguarda i chilometri che ti rimangono per fare il tagliando effettivamente quello che mi ha detto il ragazzo dell'auto officina che mi ha detto che effettivamente questo chilometraggio si aggiorna si è aggiornato effettivamente e si aggiorna spesso quando utilizzo la vettura in città come in questo momento che addirittura quando sono arrivato qui era in rigenerazione mi segnava che mi mancavano 15.400 chilometri 200 chilometri adesso non mi ricordo per fare il cambio dell'olio però ho notato che se la utilizzo in extraurbano o in autostrada anche tirandola un pochino il chilometraggio sale di tanto purtroppo questo chilometraggio non è mai salito sopra i 19.900 nonostante ci sono stati c'è stata una settimana in cui l'ho utilizzata esclusivamente in extraurbano e in autostrada in quel periodo lì non è mai salito sopra i 19.900 chilometri non è mai andata sopra e mi fa strano questa cosa qui perché casa madre dichiara il cambio dell'olio ogni 30.000 chilometri ovviamente questo ha tutti i vari sensori e si in base al utilizzo della vettura ma visto che in quel periodo lì la vettura per una settimana di fila è stata utilizzata in percorsi molto favorevoli a questi motori così ovvero al gasolio di ultima generazione dove anche ho fatto consumi che io non ho mai fatto in vita mia ero arrivato a fare i 19,5 chilometri al litro che per me sono tantissimi con questa vettura qui perlomeno e quindi adesso mi pare che il tagliando me lo segna fra 15.400 chilometri che mi sembrano un po' pochini però siccome ho visto che questo range cambia e vedremo come come si comporta vedremo anche come si comporta perché quest'estate c'è in programma un viaggio parecchio parecchio grosso mi farà effettivamente vedere come si comporta la vettura in un contesto molto molto ampio allora arrivati fin qui questi erano i piccoli aggiornamenti dei quali vi volevo far sapere in questo video qui nell'utilizzo della vettura di tutti i giorni mi raccomando seguitemi su instagram perché qualcuno mi chiede come mai ho certi consumi e su instagram se mi seguite vedrete come mai ho certi consumi detto ciò questi erano gli aggiornamenti io spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile fatemi sapere se voi avete riscontrato altre cose nell'utilizzare la vostra vettura quotidianamente che sia benzina gasolio ibrida e tutto quanto fatemi sapere voi cosa avete riscontrato se avete riscontrato altri problemi io con le temperature adesso che si sono alzate siamo all'incirca su una quindicina di gradi 16 gradi adesso come potete vedere si si sta bene non ci sono più scricchioli a parte come tutti sapete mi è rimasto sempre lo scricchioli al tunnel quando ci spingi forte il piede cercheremo di sistemare anche quello arrivati fin qui io vi ringrazio di aver visto questo video mi raccomando iscrivetevi al canale grazie di aver visto questo video e arrivederci al prossimo video grazie